Diavoli rossoneri, campioni d'Italia! Vinciamo una partita col cuore, non col culo, col cuore perché il Milan dopo l'espulsione di Raffa Leao va in grande difficoltà in 10 contro 11 per tutto il secondo tempo Raffa Leao che era stato secondo me il migliore del Milan, quello che aveva creato di più, più pericoloso l'uomo per il gol dell'1-0 di Messias perché poi c'è stata una banana del portiere ma una ripartenza incredibile con recupero palla l'uomo del 2-0 del Milan poi annullato di Decatelar e poi si fa buttare fuori come un coglione e non ci sarà contro il Napoli, porca di quella troia però il Milan porta a casa tre punti importantissimi, tre punti pesantissimi su un campo pesantissimo i gufi adesso vi diranno avete giocato con la Sampdoria che fa cagare? non è così perché vincere a Genova non è mai facile Giampollo! Dove sei Giampollo? Dov'è finito il pollo di Giampollo? Giampaolo a parte, punti veramente molto pesanti noi riusciamo a vincere anche in 10 contro 11 giocando comunque bene un bel calcio creando occasioni non siamo come gli altri che vincono al 91esimo, al 93esimo per buco di culo dopo che hanno subito anche oggi tutta la partita quasi però lasciamo stare, oggi non ho avuto tempo di prenderli per il culo perché ero in giro però ragazzi veramente nel secondo tempo Giroud fa un lavoro straordinario di possesso palla, di tenere lì la palla, di far salire sulla squadra un lavoro molto importante quando si è in inferiorità numerica il mister Pioli che secondo me ha azzeccato anche i cambi questa sera però l'importante non è stato perdere la testa in 10 contro 11 dopo il pareggio della Sampdoria poi adesso diranno che è il rigore abbiamo vinto con il rigorino voi lo sapete cosa dovete fare? ma mandateli a far culo! ciao! ciao punto